il metodo respose è un metodo utilizzato all'interno delle sedute di allenamento si andrà ad eseguire prima una serie con un numero di ripetizioni prefissato e successivamente dopo 20 o 30 secondi di recupero i restanti colpi a seconda dello stato di affaticamento del soggetto attenzione il soggetto attenzione il soggetto